quando io l'anno scorso vi dicevo che non contate un cazzo che un anno da campione non può cancellare tutta quella che è la vostra storia quando io vi dicevo non vi illudete che anche se in questo momento siete più forti anche se ci vedete deboli anche se ci vedete presi di mira penalizzati da una federazione che è vergognosa anche se voi vedete tutto questo vi dovete rendere conto che la juventus rimarrà sempre la juventus e voi siete solo il napoli ecco la trattativa per lazar samazic è la dimostrazione di tutto questo ne parliamo insieme in questo video ragazzi perché c'è un godimento enorme per quello che sta facendo la juventus per la dimostrazione di forza per la dimostrazione di superiorità che la juventus sta dando in questo momento quindi vi chiedo un like a questo contenuto iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto azionata in campanella delle notifiche in modo di rimanere aggiornato in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre su questo canale facciamo un rapido recap della situazione cerchiamo di capire che cosa è successo e perché sto parlando in questi termini per cui vedete una sorta di esaltazione per quello che è il lavoro dei giunti per quello che sta dimostrando la juventus ancora una volta che sta ragazzi tornando a dimostrare la supremazia che ci compete da sempre in italia e che da sempre abbiamo avuto allora ragazzi voi sapete che la juventus è una società che dal momento in cui lazar samaric rompe con l'inter decide che è un calciatore che rientra naturalmente nei piani della juventus ovviamente questa estate la juventus non poteva perché non aveva i mezzi economici e con la diciamo con la difesa del brand che avevano che avevano temperato uefa e figc lo scorso anno la juventus quest'anno non ha potuto fare mercato però che cosa sta succedendo sta succedendo che la juventus ha corteggiato questo calciatore e ha provato a prenderlo a gennaio si è inserito il napoli si è inserito il napoli prepotentemente il ragazzo vuole trasferirsi se vedete non sta giocando a udine e quindi ragazzi si era quasi convinto poi la svolta è stata appunto la cessione da parte del genoa di radu dragosin radu dragosin al tottenham con tra l'altro radu dragosin la plus valenza che è stata contestata la cessione della juventus a 5,5 milioni radu dragosin al tottenham 30 milioni alla juventus toccano il 20 per cento per la futura rivendita 6 milioni questi 6 milioni hanno fatto in modo che la juventus potesse operare sul mercato non per i 6 milioni in sé ma perché hanno riportato in positivo l'indice di liquidità in modo che la juventus potesse operare su questo mercato ecco perché la juventus è andata a chiudere subito di alò che praticamente se non l'avesse chiuso sarebbe andato all'inter ed ecco perché la juventus nonostante vorrebbe prendere samarzic per il prossimo anno è scesa in campo in questa trattativa non per fare una manovra di disturbo al napoli ma per prendere lazar samarzic la juventus vuole lazar samarzic è un obiettivo per il campo ma la juventus non vorrebbe toccare gli equilibri che si sono creati in questa stagione perché ciò che si è creato in questa stagione è fondamentalmente un'alchimia di gruppo che la juventus non vorrebbe rompere ecco perché vorrebbe prendere samarzic per l'anno prossimo il problema non è l'udinese perché la juventus troverà facilmente un accordo con l'udinese e fanno capire e lo si capisce facilmente anche nella giornata di ieri c'è stato un praticamente un tweet di luca momblano che diceva che i dirigenti dell'udinese erano già a torino per trovare l'accordo e per chiudere questo accordo la juventus come detto vorrebbe portare samarzic alla corte non di allegri ragazzi perché non penso che sarà allegri l'allenatore del prossimo anno come portare samarzic alla juventus perché indipendentemente da chi sarà l'allenatore la juventus ha deciso di puntare su questo calciatore il problema è che il calciatore in questo momento vorrebbe la cessione immediata vorrebbe lasciare subito l'udinese e quindi si sta lavorando per portarlo subito non per necessità della juventus né per fare un dispetto al napoli ma semplicemente perché il ragazzo vuole così e quindi il ragazzo vuole lasciare udine non si sente più stimolato da questa da questa diciamo permanenza quindi la juventus proverà a convincerlo a rimanere altri sei mesi altri sei mesi ad udine naturalmente questa sarebbe una posizione molto gradita anche all'udinese però se il ragazzo insisterà la juventus lo porterà da subito a torino adesso qual è la cosa è che in questo momento ragazzi questa cosa dà la dimostrazione di chi è la juventus perché la juventus sul mercato italiano non ha rivali non arriva non ha rivali neanche l'inter di marotto e l'ha dimostrato una trattativa breve quando ci sono stati a confronto inter e juventus non c'è paragone ragazzi non c'è paragone la juventus è la squadra decisamente più forte e più potente sul mercato italiano italiano è la squadra che quando mostra i muscoli sul mercato italiano non ce n'è per nessuno e per appilio e per attrattiva anche se non gioca le coppe europee e per potere economico perché la juventus ha la possibilità di dare ingaggi che soltanto l'inter può pareggiare quel tipo di ingaggi però io fossi un calciatore avrei prospettive molto diverse nell'andare alla juventus dove sono sicuro che i soldi li prendo tutti per tutti gli anni che nell'andare all'inter dove la situazione economica è molto disastrata quindi in questo momento li vado sicuramente a prendere ma più in avanti ecco perché magari la juventus riuscirà a trovare facilmente secondo me un accordo col padre di samarzic cosa che l'inter non ha fatto il padre di samarzic conoscendo la situazione dell'inter ve lo dico io ha cercato di monetizzare tutto subito dice poi se le cose vanno male intanto mi sono preso il premio alla firma e poi si vede perché le persone non sono stupide e l'inter lo scorso anno quando si è rese conto che stava spendendo quei soldi per samarzic e non aveva ancora il difensore ha iniziato a trovare scuse ha iniziato a fare le pulci a 100 mila euro perché l'inter voleva prendere Pavard e poi se avesse preso samarzic non avrebbe avuto più i soldi per prendere Pavard viceversa il napoli deve rassegnarsi al fatto di essere una società subalterna alla juventus e mi fa godere da morire che glielo sbattiamo in faccia glielo dimostriamo ogni volta ma non c'era bisogno loro non vogliono arrendersi a questa cosa ma loro non sono mai arrivati a torino e dice mi vuoi dare a federico chiesa mi vuoi dare cosa devo dire dujan vlauch e siamo andati lì abbiamo pagato la causa ci siamo presi gonzale guaino siamo andati lì ci siamo presi ciro ferrari siamo c'è è la storia che lo dice ragazzi 38 scudetti a tre migliore fatturato quello della juventus più il fatturato più grande anche senza le coppe europee anche quest'anno ragazzi quindi di cosa stiamo parlando stiamo parlando di due realtà molto molto diverse adesso sicuramente merito aggiuntoli che ha lavorato sotto traccia e che è riuscito naturalmente a far saltare la trattativa con napoli a convincere il giocatore a venire alla juventus adesso in questo momento il giocatore la juventus come priorità assoluta almeno quello che si dice è questa fatemi sapere qual è il vostro pensiero e fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa e fino alla fine ragazzi contro tutte e tutti sempre e comunque forza juventus e ricordatevi mai sottovalutare la juventus perché la juventus rimane sempre la regina del calcio italiano anche se il calcio italiano sta morendo la juventus rimane regina e voi state sempre dietro a leggere il numero di targa perché la storia lo dice non lo dico io dice la vostra storia avete capito napoletano un anno dalle uno non ne può cambiare cento a pecoro